Nasce un nuovo strumento di partecipazione tra il Comune di Viareggio e le associazioni sportive o culturali che si occupano anche di sport. È la consulta dello sport, organismo che ha l'obiettivo dello scambio reciproco di proposte e osservazioni legate agli eventi sportivi da svolgere sul territorio comunale, ma anche rispetto alla tematica delle strutture sportive e degli spazi all'aperto dedicate allo sport, come spiega l'assessore Rodolfo Salemi. Uno strumento più che mai prezioso, soprattutto in questa particolare fase, potranno partecipare associazioni, società, anche associazioni culturali che abbiano particolarmente a cuore lo sport. È un'occasione in cui l'amministrazione potrà chiedere loro pareri e potrà al tempo stesso ricevere proposte inerenti alla programmazione dell'amministrazione comunale. Uno strumento di cui sentivamo particolarmente bisogno sarà un momento prezioso di interscambio nell'interesse della crescita dello sport. Si parlerà naturalmente per quanto concerne l'infiantistica sportiva, le manifestazioni, l'organizzazione di eventi ed altri temi che ho già a cuore ma che emergeranno nei prossimi mesi.